Buonasera, buonasera a tutti, buon pomeriggio. È iniziata l'ora legale, quindi adesso ci incontriamo con il sole. Tra l'altro è un'occasione veramente straordinaria. Per presentare un libro ovviamente darò presto la guida a Sergio Ferraris, perché Sergio Ferraris è, come si dice, un giornalista scientifico, ma è anche uno dei folli che hanno fatto le radio libere ai suoi tempi. Ne ha fatte di ogni nella sua vita, capito? Per cui è più adatto, insomma, in termini culturali a confrontarsi con questo bel libro divertente, intelligente, molto, molto, molto particolare, Energia per la gente. Un bel libro di Livio De Santoli e ora vedrete anche in sovraimpressione che era nell'avviso. Siamo ovviamente dentro la sala webinar della Exco, della nostra fiera virtuale, quindi siamo in 3D e poi siamo nelle pagine Facebook di Ecofuturo Festival, di Jacopo Fo e di tantissime altre pagine Facebook per un totale di 4 milioni di followers, quindi piuttosto interessante insomma come trasmissione. Il libro Energia per la gente di Livio De Santoli che dieci anni fa inaugurò la stagione delle comunità dell'energia con un libro copertina gialla molto solare che io ho e che ho letto e non solo con un libro in cui raccontava appunto anche tra le altre cose questa straordinaria esperienza dell'impianto del più grande impianto in una città storica italiana a Roma, appunto il sopra la sala nervi della città del Vaticano che lui aveva sostanzialmente realizzato, progettato, avuto l'idea di farlo. Ovviamente è restato tale, il record è rimasto imbattuto ma non per demerito degli avversari perché lui l'ha fatto truccando il gioco in uno stato estero e allora lì la soprintendenza delle belle arti non ha potuto colpire duramente come si dedica da alcuni anni a colpire ogni installazione urbi e torbi delle energie rinnovabili e quindi diciamo è rimasto protagonista. Da allora Livio De Santoli è prorettore all'energia dell'Università della Sapienza, da sempre protagonista delle battaglie ecologiste scientifiche del nostro paese e ora è anche presidente del coordinamento FRI che raggruppa tutte le associazioni delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Una persona di cui credo di essere amico, che stimo, ha un aspetto, come si dice, compassato ma non vi fidate, ha questo elemento diavolesco che lo rende, lo rendono. E questo aspetto, come dire, rocchettaro che non te l'aspettavi da uno sempre ben elegante come Livio e invece ha prodotto questo libro in cui appunto fa un percorso tra l'energia per la gente, quindi l'energia rinnovabile, l'energia solare, l'energia che non ci abbandonerà più, e la musica, le esperienze musicali, il rock, i movimenti, eccetera. Non la faccio più lunga perché non sono adatto, sono con noi gli altri ospiti. Comincio da quello che manca, che fra un pochino arriva, che Jacopo fa, e poi abbiamo Franco Mussida che ovviamente tutti conoscerete per le sue eroiche gesta musicali e quindi ne sono molto contento che ci sia, orgoglioso. Io, come dire, sono stato un fan assoluto e quindi straordinario. Grazie di essere venuto, mi fa molto piacere. E poi abbiamo un giornalista rock che noi non conoscevamo come rock, ma chi è rock? Ed è Maurizio Melis. L'anno scorso lo abbiamo premiato ad Ecofuturo perché è autore di una trasmissione ecotecnologica tra le più importanti a livello nazionale, ma a livello internazionale. Smart City è, come si dice, una trasmissione cult per tutti noi, per cui lo abbiamo premiato e lì abbiamo scoperto che sta preparando uno spettacolo. Ovviamente, mentre come giornalista sa indovinare il momento giusto, come musicista ovviamente non l'ha proprio a tiappata, insomma, come si dice in Toscana, e il momento non era propriamente quello giusto, ha incocciato preciso il lockdown. Ma aspettiamo che, come si dice, il mondo riaprirà. L'ho fatta anche troppo lunga, seguiteci in ogni strumento che abbiamo messo a disposizione, la parola a Sergio Ferraris a condurre questo confronto. Ovviamente io sto qua e se mi viene di dire qualche sciocchezza mi perdonerete ogni tanto. Va bene? A te la parola, Sergio. Perfetto, grazie mille, grazie Fabio. Dunque, il rapporto tra musica rock e questioni ambientali. Diciamo che devo tornare indietro nella memoria di parecchio tempo, di quando in sostanza avevo 16 anni, forse, in 1976, e c'era l'esplosione delle radio libere. Entrai prima in una radio, una delle prime cinque radio di Roma, che si chiamava Radio Blu, e facevo i notturni rock, perché di giorno andavo a scuola. Quella era l'epoca, diciamo, di contestazioni, di rivolte in tutto il mondo, insomma, dai tardi anni 60 agli anni 70. E sono stati anche i momenti, diciamo, più fecondi dal punto di vista della musica. Io, in questo periodo, per esempio, ascolto parecchia musica, il cosiddetto rock progressivo di quell'epoca, i Pink Floyd in primis, ma i primi Soft Machine, quelli di Robert Wyatt, per esempio, che buttarono veramente le basi della sonorità, di sonorità che ancora oggi vengono utilizzate, e vengono utilizzate dai musicisti, dai creativi di qualsiasi tipo. Pensate che ho ritrovato, per esempio, il montaggio, il link di Echoes, dei Pink Floyd, rimontato sulla parte finale di 2001 di Sonnello Spazio, perché c'è qualcuno che sostiene che, in realtà, i Pink Floyd avessero fatto quel pezzo commissionato da Kubrick che poi, per qualche strano motivo, non sia stato utilizzato. Ebbene, rimontato pari pari Echoes sulla parte finale di 2001 di Sonnello Spazio, guardatevela su YouTube, è veramente affascinante, sembrano fatti l'uno per l'altro. E nel frattempo, diciamo, incalzavano, assieme ai movimenti sociali, anche i primi movimenti ambientali. Insomma, non c'è da scordarsi il fatto che la prima manifestazione antinucleare in Italia è datata nel 1977, a Montalto di Castro. D'accordo? Per cui, voglio dire, c'è un parallelo molto netto, da questo punto di vista, tra movimenti musicali dell'epoca, che erano trasgressivi, creativi, ci si applicava la creatività in tutti i sensi. Sempre per riandare sempre Pink Floyd, pensate alla figura di Sid Barrett, il massimo creativo dei Pink Floyd, al punto che poi nel 1975 gli hanno dedicato un intero LP ai Wish You Were Year, che poi si è perso praticamente nei deliri liserdici dell'epoca. Ecco, mettere appunto un link tra musica rock e ambiente, a questo punto, questa è una domanda per Livio De Santo, mentre abbiamo ben chiaro quale fosse il livello di link tra la rivolta dei giovani del 68, del 77, insomma di quegli anni lì, e la musica, un po' più sfumato è invece la relazione tra musica rock e ambiente, che Livio affronta nel proprio volume. Bene Livio, partiamo da questo, partiamo da questo link. Che cosa ci dici? Microfono. Perfetto. Buonasera a tutti, intanto, buonasera, grazie a tutti. Il discorso parte direttamente dall'energia. Allora, è chiaro che l'aspetto energetico è grandissima parte dell'aspetto ambientale. Io avendo occupato quasi tutta la mia vita, perché anche quando studiavo avevo cominciato a portare i temi energetici, non posso che ricalcare questo solco, il solco energetico, con una considerazione che stiamo facendo da qualche anno a questa parte un po' tutti, coloro i quali si occupano di energia e di modificazione del modello energetico. Ma con l'avvento delle fonti rinnovate, noi abbiamo due grandi capisaldi su questa transizione energetica. L'avvento delle fonti rinnovabili di energia da un lato e le comunità dell'energia dall'altro. Sono due pilastri fondamentali che naturalmente si intersecano, che in qualche modo hanno dei collegamenti molto forti, anche se dei connotati diversi. Ognuno dei due però porta dietro un ragionamento che mi è sembrato molto interessante sviluppare in maniera compiuta, non perché forse non lo sapessimo già, ma perché forse non era organicamente inserito in questa transizione, che riguarda una considerazione. Questa grande abbondanza di fonte energetica, perché noi stiamo parlando del sole, stiamo parlando del vento, stiamo parlando dell'aria e stiamo parlando dell'acqua. Qualche cosa che esiste, esisterà sempre nel corso dei millenni a venire. L'avvento della grandissima abbondanza che si contrappone alla scarsità, perché noi abbiamo l'idea che il petrolio non finisca mai, noi abbiamo l'idea, abbiamo avuto, l'idea che la fonte fossile sia inesauribile. In realtà, come abbiamo visto, è durata ben poco, se ci fa caso nella storia dell'uomo. Bene, l'abbondanza nei confronti della scarsità, cosa si porta dietro, essenzialmente? Si porta essenzialmente l'inapplicabilità della proprietà privata sull'energia. Cioè, si scardina qualche cosa che noi conosciamo perché siamo nativi fossili e che quindi abbiamo imparato a conoscere bene ed è entrata e ha permeato le nostre esistenze. Ma questa proprietà privata è destinata a morire, è destinata a finire. Definitivamente, con un crash, non con un sospiro, con un tonfo, un tonfo, un orno. Allora, da questo punto di vista, che cosa rappresenta la fonte energetica? Rappresenta il bene comune, rappresenta la condivisione, rappresenta la distribuzione, anche territoriale, oltre che individuale. Questa contrapposizione è enorme e mette in fila tutta una serie di problematiche che la fonte fossile ha perpetrato in tutti questi anni. In premisse l'inquinamento, il cambiamento climatico, ma non solo questo. Direi che il bene comune energia metterà a posto tutta una serie di anomalie che si sono venute creando sempre di più nel corso degli anni. Ne dico solamente un paio. la povertà energetica che è povertà assoluta perché chi non riesce a pagare la bolletta dell'energia è il povero totale. È chiaro che l'unica cosa che non può tagliare è il cibo, però subito dopo il fatto di poter vivere bene, in maniera decorosa o come si dice dignitosa. Oppure le migrazioni ambientali che sono causate sostanzialmente dalla cambiamento climatico a sua volta causato dalle trasformazioni dell'energia. Ma ce ne sono tante altre di cose che vengono ripercorse in questo libro e non la voglio fare lunga perché voglio ascoltare tutti poi magari alla fine riprenderemo il discorso. questa storia è veramente la rivoluzione, la rivoluzione vera dell'uomo, la rivoluzione moderna dell'uomo, una rivoluzione nella quale ogni uomo è chiamato a dare una risposta proprio per il carattere distribuito della fonte energetica e l'importanza dell'uomo, dell'individuo come perno centrale di questa rivoluzione. L'unica cosa che mi sento di dire ma qui ci sono dei musicisti troppo importanti per poter dirla a cuor leggero dico mi è venuto in mente un parallelo fatto con un periodo della musica nella quale l'abbondanza così come l'ho definita prima era un dato di fatto è stato un periodo del nostro mondo musicale mondiale e anche italiano perché ci sono degli esempi in Italia importantissimi a livello internazionale quando Franco Mussida mi ha mi ha raccontato del del suo rapporto con i King Crimson e con il fondatore dei King Crimson voglio dire è un è un elemento storico importantissimo della presenza anche italiana in questo in questo modello internazionale bene c'era un momento in cui l'abbondanza era permessa era permessa perché c'era una libertà totale dal punto di vista della creazione musicale della interpretazione musicale ogni minuto ci ricorderemo almeno quelli della mia età andavamo da messaggerie musicali qui a Roma e ogni giorno c'era un disco che veniva che veniva dall'Inghilterra che era un poema che era un'opera d'arte in più c'erano dei complessi italiani tra cui la PFM ma non solo che anche loro si cimentavano in questo c'era una musica fatta di Moog c'era una musica fatta di libertà c'era una musica che interpretava l'abbondanza e questo è stato un po' il nesso anche se molto semplice che mi ha che mi ha portato avanti in questa in questa opera ho tentato su tutti gli argomenti nel quale veniva declinata l'energia e ce ne sono tanti di collocare all'interno un riferimento musicale in realtà questo non è un libro il cui sommario si legge con la sequenza dei capitoli è un libro che si ascolta con la playlist che viene fuori da quei capitoli almeno mi piace pensarla in questo modo e quindi io credo che il modo per affrontare questa transizione che è la transizione dell'abbondanza che è una trasformazione radicale rivoluzionaria debba in qualche modo tenere presente l'esperienza passata che è l'esperienza dei famosi anni 60 e l'esperienza di quei musicisti che hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo perché ne avevano non solo la capacità la possibilità ma ne avevano la condizione una condizione ferrea fortissima una spinta una spinta inarrestabile io mi fermo qui ascolto quello che direte voi salvo poi commentarle dopo alla fine grazie ecco grazie Livio la suggestione più netta che ho avuto è che questo è un volume con un sommario che si ascolta mi piace molto questo link tra il cartaceo o l'ebook e invece un altro senso che è quello della musica e dell'ascolto quindi un volume con un sommario che si ascolta io a questo punto vorrei chiedere al nostro ospite dell'eccezione che è Franco Musid e se aziona il microfono prima di parlare insomma Musid lei è stato uno dei protagonisti di uno dei più bei pezzi rock del rock italiano premiato a Forneria Marconi impressione di di settembre che ha a mio modesto parere io lo li ascolto spesso diciamo quando mi metto un paio di cuffie con l'amplificatore a valvole che dà delle altre sonorità che lo riempie di sonorità la musica che ha secondo me una musicalità che è parecchio intonata con l'ambiente io sono piemontese sono della provincia di Vercelli e in questo vostro brano ritrovo spesso le suggestioni diciamo della mia terra a settembre nel Vercellese inizia a esserci esattamente quella sensazione che c'è nel vostro pezzo con un filo di nebbia durante durante la giornata ecco Mursida volevo chiederle lei secondo lei si può esiste questo link tra la musica rock e l'ambiente inteso come l'ha inteso Livio De Santoli facendo questo parallelo tra energia ed abbondanza prego grazie allora beh intanto saluto tutti che sono qui che vedo e quelli che non vedo e quindi anche Jacopo Po che è lì però non lo vediamo mi saluto tutti quanti perché evidentemente siete tutti mossi da una curiosità da una passione per l'argomento non solo dell'energia ma una passione per la musica per il suo ruolo allora approfitto di questo di questo tempo per per provare a fare un piccolo ragionamento preliminare perché l'argomento è immesso enorme intanto volevo volevo precisare una cosa noi dovremmo metterci d'accordo sui termini quando si parla voi parlate di rock il rock è una una bella parola dove dove dentro ci può stare qualsiasi cosa io faccio presente per esempio che l'esperienza del progressive aveva dentro del rock ma non era solo quello aveva dentro la musica popolare aveva dentro la musica classica aveva dentro il jazz aveva dentro tutto quello che si poteva in qualche modo vivere in quel periodo meraviglioso che abbiamo vissuto tutti quanti ovvero chi ha avuto il piacere e la fortuna di fare il bagno nella pozione magica come dico io che era una condizione di vita nel senso che non era solo la musica che rimarcava la straordinarietà di quel periodo ognuno nelle sue arti ha vissuto quel momento lo ha vissuto perché sono cadute le religioni è caduta la politica è caduto tutto ed è rimasto l'individuo con le sue immagini non c'era una religione c'era senso religioso anche gli arti in qualche modo lavoravano per la gente e operavano per diciamo per il bene comune ecco chiamiamolo così come in qualche modo è il termine che stiamo usando in questo momento quindi volevo rimarcare due cose anche perché Dylan tutto si può dire a meno che sia rock cioè ce lo vogliamo far stare per forza Johnny Mitchell ce la vogliamo fare per forza cioè il Weather Rapper ce li vogliamo fare per forza cioè no non è il rock è il mondo della musica tutta per certi versi soprattutto quella popolare e soprattutto quella che era legata alla volontà di rimarcare una differenza tra un passato romantico di una tradizione ormai andata che era già stato preso martellate per dirla in maniera molto martellate no ma voglio dire era già stato abbattuto per certi versi dalla dallo swing prima da un sacco di cose ma soprattutto certamente il mondo glussassone ha avuto un grosso merito però io volevo rimarcare due cose noi continuiamo a parlare di musica ma la musica in realtà è un linguaggio non verbale tutto quello che ha a che fare con la parola e la canzone non ha niente a che vedere con la musica la musica è solo dovremmo utilizzare questo termine solo quando siamo di fronte a degli elementi che non hanno bisogno di parola per essere spiegati questa è la prima osservazione che mi sento di fare perché questo ci consente in qualche modo di comprendere come quel periodo non c'è mai stata così tanta musica strumentale come quel periodo perché non c'era bisogno di parlare la musica è di fatto pura intenzione emotiva io arrivo adesso dal Beccaria dove ho un laboratorio con i minori del Beccaria dove abbiamo portato questo contributo che è andare là dove c'è solo parola mischiata con il suono per far capire che la dimensione della parola è una dimensione che va bene per carità ma nello stesso tempo non è lei sola che genera tutta una serie di elementi fondamentali nella comunicazione diciamo artistica sonora e quindi in ambito sonoro la musica fa un lavoro straordinario perché senza di lei se spegni se vai al cinema e spegni l'audio e guardi qualcosa ti rendi conto di che differenza c'è prova a guardarti Shining e il bambino che va con il triciclo cambiali la colonna sonora e invece della colonna sonora originale ci metti una una colonna sonora che potrebbe essere quella del reclam della chicco e ti renderesti conto che tutto tutto quella orrore che vengono male o quella preoccupazione che eccita quell'immagine svanisce questa è la prima cosa quindi io parlerei del rock come fenomeno ma nello stesso tempo diciamo amplirei tutto il discorso ma questo per andare dietro a quello che ha fatto tra l'altro Livio perché se andate a vedere la sua playlist perché alla fine è un libro con una playlist e alla fine di ciascuna cosa ci sono delle diciamo delle ambientazioni musicali che si riferiscono all'ambito del folk all'ambito di tante di queste cose questa è la prima cosa la seconda cosa che volevo che volevo dire la prima facciamoci una risata io mi vedo con i capelli bianchi con le rughe adesso con questi occhiali perché sono gli unici che ho per poter vedere da vicino e tu mi parli di impressioni di settembre mi dia pure del lei andiamoci pure del tuo non è un problema mi parli di impressioni di settembre mi viene da ridere ma nello stesso tempo mi fa piacere perché quelli sono doni di quel momento di quel periodo di quella situazione e oggi siamo tutti tutti un'altra storia oggi siamo altri per certi versi oggi siamo qua a presentare un libro che è un libro che parla di una cosa davvero che c'entra con la nebbia di impressioni di settembre per carità perché era quello lì era tutto era tutto un mondo di emozioni ma così come la frase di impressioni di settembre che voleva raccontare la dimensione della libertà cioè il fatto di andare liberi nel mondo io l'ho composta che avevo 23 anni per cui l'ultima canzone che ho scritto a casa mia frase compresa e non ne potevo più di uscire dal mio cortile per poter andare nel mondo l'ho fatto attraverso un elemento musicale quindi un elemento visionario e questa dimensione della visione di quel periodo storico è molto interessante perché si ripresenta essere oggi qualche cosa che va rimarcata perché in un mondo che sta andando a fondo dappertutto andare a ritrovare quel momento storico per cercare di capire che cosa è successo davvero in quel momento storico non nella politica non nell'educazione ma che cosa è successo all'uomo in quel periodo che cosa abbiamo vissuto davvero ecco questa è una cosa interessante che mi pongo come domanda d'altro canto ci sono due aspetti che riguardano l'energia e che almeno per quello che mi riguarda dividerei in due Livio ha fatto un lavoro sull'energia per l'uomo l'energia per l'uomo dopodiché ha cercato di unire l'energia dell'uomo attraverso questo elemento che è il suo elemento artistico perché io mi devo chiedere ma qual è la mia energia noi ci dobbiamo chiedere qual è la nostra energia cosa produciamo noi cioè al di là di pensieri emozioni e quant'altro cosa produciamo e quindi qua si apre un altro capitolo che vorrei chiuderlo subito perché se no mi faccio la supercazza uno scappellamento a destra con i forcentani e non è proprio il caso se volete vi andate a leggere il mio libro che si chiama Il pianeta della musica e quindi ve lo consiglio e così almeno evito di raccontarvi 35 anni di lavoro attorno ad un'idea l'idea che la musica non sia soltanto un'arte espressiva e performativa ma sia essenzialmente una scienza umanistica e quindi che ci insegna costantemente e continuamente e ci dice e ci racconta chi siamo quindi l'energia dell'uomo che assimila bene o male la bellezza del mondo la traduce la la vive la trasforma e poi la restituisce ma non la restituisce soltanto a noi perché ci fa piacere ecco questo è un una roba per audiofili che non ha senso per il semplice fatto che faccio e dico solo ultime due cose poi ho finito ci sono 8 miliardi di persone ci sono 300 milioni che la musica la producono e ci sono 7 miliardi e e e mezzo di persone che la musica la ascoltano allora siccome stiamo parlando di un codice e quindi stiamo parlando di un codice che è un codice misterioso per certi versi ma è un codice senza il quale noi non riusciamo per esempio a vendere un cacchio ok cioè c'è un problema che va al di là del del dell'elemento artistico e si inserisce in un in un panorama più ampio che è quel discorso del bene comune che bene o male si faceva prima siccome io personalmente non mi sento padrone di niente ma nello stesso tempo non mi sento neanche dipendente di niente e e e paradossalmente non sono neanche produttore se vuoi o consumatore ma se mai mi sento posso immaginarmi di essere custode di qualcosa che mi è stato che mi è stato offerto che mi è stato donato anche la musica da questo punto di vista dovremmo cominciare a guardarla da un altro punto di vista e non più soltanto a settori non più soltanto a generi non più soltanto mi piace questo non più soltanto mi piace quell'altro ma dovremmo cominciare magari a guardarla come strumento meraviglioso straordinario di produzione di energia quale energia e qua sta uno dei problemi della musica di oggi che è quello che non si può parlare di qualità perché la qualità della musica la qualità dell'energia pare essere soltanto associata alla dimensione della bravura dell'esecutore siamo sicuri che è così? Veramente io ti ringrazio a questo punto ti do del tu perché veramente è stato un intervento il tuo illuminante l'analogia diciamo energia per l'uomo tra il libro di Livio e energia dell'uomo che hai sottolineato è veramente per quanto mi riguarda stimolante e mi ha fatto riflettere l'energia dell'uomo qual è l'energia dell'uomo? Allora noi siamo dal punto di vista prettamente fisico estremamente efficienti perché facciamo tutte le cose che facciamo ci muoviamo pensiamo il nostro corpo funziona viene tenuto in temperatura con 80 watt ora d'accordo? Cioè quello che era una lampadina a incandescenza di qualche tempo fa però le cose che riusciamo a realizzare con questi 80 watt ora sono oggettivamente incredibili dal punto di vista specialmente della qualità del lavoro che realizziamo dalla qualità intellettuale dalla qualità anche manuale di quando un artigiano produce un oggetto di quando un ingegnere lo progetta attualmente con il computer e cose di questo genere per cui questi 80 watt ora in realtà non fanno il lavoro che potrebbe fare un piccolo motorino elettrico o una lampadina in incandescenza ma fanno un lavoro enormemente più ampio e mentre parlavi riflettevo proprio su questa questione e mi aggancio alla fine del tuo intervento per quale motivo questa energia che volendo questi piccoli 80 watt ora realizzano questa cosa perché sono inseriti all'interno di un contesto e secondo me questo è il problema cruciale di questo periodo all'epoca negli anni 60 e 70 noi avevamo dei movimenti che ragionavano complessivamente su dei contesti e la musica era un fattore determinante insomma non ci scordiamo il livello di contaminazione musicale che avevamo tra i generi d'accordo un gruppo molto un po' sconosciuto un po' per audiofili si chiamava Napoli Centrale faceva una ritmica pazzesca con le canzoni in napoletano per esempio e quando l'ho fatto sentire a mio figlio tredicennio ha detto ma cacchio ma questa è una musica pazzesca ma stavano a Napoli non è possibile che stessero a Napoli sì perché c'era contaminazione c'era una sorta di fertilizzazione c'era un humus biologico nel quale queste cose crescevano ecco io adesso a questo punto vorrei sentire Jacopo Fo se si prepara non vedo la telecamera il microfono spento eccolo qui eccolo Jacopo Fo e Jacopo Fo è una persona che in quegli anni diciamo è stato un protagonista insomma della scena dei movimenti insomma l'ha descritto spesso in una serie di suoi volumi e ricordami tu i titoli perché io ho una pessima memoria e non non mi ricordo non me li ricordo anche perché ne hai scritti parecchi detto tra parentesi è stato uno dei fondatori se non sbaglio del male insomma il giornale che compravamo tutti per trovare una una comunicazione e una satira feroce ma efficace allo stesso tempo e al passo con i tempi ecco Jacopo facci qualche indiscrezione su come vivevi la musica all'epoca e come poi tu che hai fatto un perno della tua attività diciamo con hai fatto dell'ambiente un perno della tua attività successiva insomma Alcatraz è uno dei posti uno dei think tank anche del pensiero ambientale secondo me hai costruito un ecovillaggio insomma hai il pallino forte per l'ambiente tu ecco descrivici qual era all'epoca il diciamo l'humus culturale che c'era e che riflessi aveva sul tuo percepire la musica e poi come ti ha portato successivamente a occuparti d'ambiente vai ma la musica è stata fondamentale nella rivolta degli anni 60 e 70 si viveva in mezzo alla musica e tra l'altro credo che in Italia si sperimentava una ricchezza musicale strepitosa perché da una parte c'era il recupero e la rinvenzione delle musiche popolari italiane dall'altra parte c'era l'arrivo di questi ritmi dall'America a partire negli anni nella fine degli anni 50 all'inizio degli anni 60 il blues tutte queste cantate dei neri e c'erano le contaminazioni dei sudamericani gli intillimani che imperversavano in Italia insieme a tanti altri gruppi c'era veramente un mondo di sperimentazione e non a caso vennero fuori dall'Italia dei gruppi veramente straordinari come diciamo una grande ricchezza una grande ricchezza che ancora continua in quelli che sono stati appunto gli interpreti di quegli anni e l'ambiente venne fuori insieme a un pacchetto di discorsi ci fu la rivolta al così alla freddezza la compostezza anche al fatto di essere noiosi di essere autoritari del movimento comunista per cui iniziò un'ala del movimento cappeggiata dal re nudo a mettere fuori degli altri contenuti che riguardavano l'amore il rapporto tra maschi e femmine e che riguardavano anche la salute l'ambiente l'educazione dei bambini cioè ci fu una parte del movimento che a un certo punto si rese conto che il livello della politica intesa solo come lotto di classe scontro tra operai e padroni era non solo perdente ma non rispondeva alle nostre reali aspirazioni e dentro questo c'era la musica come soggetto fondamentale cioè la rivoluzione che portò Renudo con Andrea Valcarenghi aveva come spina dorsale questi grandi festival che erano degli eventi per noi impensabili erano delle piccole woodstock io mi ricordo il secondo che si svolse sulle rive del Ticino a Zerbo e era 30 chilometri da Milano vicino a Pavia e c'era questa spiaggia immensa con decine di migliaia di ragazzi e ragazze e questo grande palco dove si esibivano i grandi musicisti del momento che interpretavano non soltanto magari contesti politici ma proprio interpretavano una rottura rispetto al modo di vedere al modo di considerare la vita e il nostro rapporto e in questo ambiente iniziò a venire fuori il discorso del cibo biologico del cibo che era avvelenato quello che prima era soltanto la sofisticazione alimentare quelli che vendevano il parmigiano con dentro i manici di ombrelli di plastica grattugiati era quella la nostra lotta diventò poi invece la critica proprio al sistema di coltivazione e quando iniziò questo ragionamento che era poi legato alla poesia un'altra volta che trovevamo nelle musiche della terra delle foreste della natura e diventò un discorso sull'ambiente quando arrivai a Alcatraz nel 79 avevo ben chiaro che era necessario fermare la distruzione delle foreste in Italia tant'è vero che un'operazione fondamentale che facciamo con la mia famiglia fu quella di comprare 4 milioni e mezzo di metri quadrati di boschi per impedirne la distruzione il taglio e poi la legna tra l'altro veniva bruciata per cui proprio un'assurdità ma a fianco a questo si era sviluppata anche l'interesse per le ecotecnologie a Alcatraz il primo anno nell'81 costruimmo il nostro primo impianto fotovoltaico che si rivelò una truffa colossale perché tutto funzionava perfettamente in questa casa alimentata dal sole però funzionava perfettamente fino a quando c'era il tecnico che aveva costruito l'impianto poi lui se ne andò dopo una settimana che era restato per verificare che tutto funzionasse bene e scoprimmo che l'impianto funzionava soltanto perché lui di notte teneva l'auto accesa a 200 metri e riforniva con il motore dell'automobile la casa di energia elettrica per cui proprio fu una truffa e un'altra truffa la beccammo col primo mulino vento ma comunque al di là del fatto che era allora veramente difficile trovare qualcuno che fosse capace di fare un impianto fotovoltaico come un mulino vento comunque era già chiara nella nostra testa l'idea che la cultura la lotta politica l'arte e l'ambiente e l'alimentazione erano una cosa unica noi aprimmo nell'82 uno dei primi ristoranti italiani che erano biologici che non si sapeva neanche che cosa fosse io credo che quello che veramente fece la musica fu di scatenare l'entusiasmo scatenare la festa scatenare il ballo mi ricordo questa danza che facemmo in centinaia nudi sotto il palco del secondo terzo festival di Renudo che era quello del parco Lambro che fu una festa colossale nella quale c'era gente che faceva yoga gente che faceva da mangiare questo e d'altro e vorrei chiudere con una riflessione noi abbiamo l'esplosione di questa rivoluzione culturale degli anni sessanta che è preceduta da che cosa dal fatto che alla fine degli anni cinquanta esplode una nuova danza il twist nel twist la gente si muoveva twist era una danza in cui le persone si shakeravano si agitavano facevano movimenti che non si facevano mai ecco io credo che se noi guardiamo questa rivoluzione della danza e della musica questo fatto di iniziare a muovere il corpo fu uno delle molle che fece iniziare a muovere il cervello non credo che ci sarebbero state le rivolte contro l'apartheid e le grandi proteste di Nelson Mandela in America e che ci sarebbe stato il 68 se non fosse stata la musica e la danza a liberare la mente e la voglia di vivere della gente ecco io credo questo sia un grande passaggio una grande un grande momento di cambiamento che è passato prima per il movimento del corpo e poi per il cervello e poi è arrivato all'ambiente ma era chiaro che nel momento in cui tu ami di più la tua vita il tuo corpo inizi a chiederti quello che mangi e come funziona il mondo poi arrivi a voler difendere l'ambiente bene benissimo grazie Jacopo hai tracciato un filo rusce diciamo anche con Massid e anche con Livio a questo punto chiederei a Maurizio Melis Maurizio Melis è una delle voci di Radio 24 conduce la trasmissione Smart Cities ma si occupa di divulgazione scientifica ambientale ben da prima se non sbaglio la tua trasmissione prima si chiamava Mr. Kilowatt faccio un errore no ci ho preso con la mia pessima memoria Maurizio Melis si occupa anche di musica come vedrete tra poco perché ha sullo sfondo diciamo un bello studio uno studio che gli invidio detto tra parentesi io che personalmente ascolto la musica ma non so suonare nemmeno il triangolo vedo che hai un bello studio lì dietro ecco abbiamo fatto un viaggio in quelli che erano gli anni 60 e 70 primi anni 80 diciamo legati al rock che non è solo rock bensì contaminazione miste come ci ha detto Mussid ecco oggi come oggi se levata la parentesi della pandemia abbiamo dei movimenti sociali molto forti legati alle questioni ambientali legati alle questioni climatiche i free day for futures diciamo innescati da Greta Thunberg Extinction Rebellion che in Inghilterra sono un movimento molto puntuale e anche molto radicale altri movimenti diciamo ci sono a livello magari un po' più sotterraneo negli Stati Uniti comunità di persone che si organizzano per fare energie del sole per cibo biologico insomma l'ambiente negli ultimi due anni prima che arrivasse questo macinio che è la pandemia era all'ordine del giorno però 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 non si è vista una musica che abbia accompagnato questi questi movimenti secondo te Maurizio che cosa è successo si è rotto qualcosa manca ancora qualcosa c'è qualche germe magari che sta tentando di nascere sotto questo profilo dici la tua impressione allora a parte che in presenza di Mussina dire che io mi occupo di musica rischia di essere offensivo per i musicisti del pianeta comunque diciamo che è una mia compagna una cosa che pratico da tanti anni adesso io sono venuto qui non solo per fare scena perché parliamo di ambiente di musica ma perché questo comunque è il mio luogo di lavoro da un anno a questa parte prima era dedicato esclusivamente alla musica adesso ci faccio anche ci faccio anche la trasmissione allora la domanda è interessante se posso ci reagisco anche a un po' delle cose anche un po' delle cose dette provo a mettere un po' tutto tutto insieme allora non c'è in realtà oggi Mellis si è frizzato a causa della linea mi dispiace allora ripeti siamo arrivati in sostanza oggi vai non credo che manchi completamente una produzione di canzoni o di musica di canzoni per stare alla distinzione fatta da Mussina diciamo che che abbiano il tema ambientale non c'è senz'altro però il tema ambientale non è nuovo cioè la musica come tutte le forme io trovo che allora rispondo partendo dagli anni settanta allora gli anni settanta ci sono state tre o quattro grosse sentite perché vi vedo vi vedo fermi varie contestazioni avvenute contemporaneamente c'era il tema della libertà sessuale che metteva in discussione l'ordine costituito della famiglia c'era la lotta per i diritti dei neri che metteva in discussione l'ordine costituito diciamo sociale c'era la lotta dei pacifisti che metteva in discussione le relazioni internazionali e poi c'era la più tranquillizzante lasciatemi dire così per essere un po' provocatorio lotta per l'ambiente vedo vi vedo fermi quindi spero che riusciate a seguirmi altrimenti zittitemi che non mi offendo ditemelo serenamente piuttosto mi riconnetto quindi c'era un movimento di contestazione complessivo molto ampio sulle ragioni possiamo discutere come sempre le arti tendono a essere delle avanguardie intercettano queste cose in anticipo e se ne fanno se ne fanno interpreti d'altra parte la musica ha interpretato bene la questione sociale e ambientale negli anni 60 negli anni 70 soprattutto forse un po' meno negli anni 80 dove invece ha interpretato il regno dell'abbondanza quello che a Milano chiamavamo la Milano da bere quell'epoca lì il nichilismo negli anni successivi con le delusioni dell'epoca dell'abbondanza se vogliamo così chiamarle insomma la musica riflette quasi sempre la cultura giovanile lasciatemi dire così e tende ad anticipare come tutte le avanguardie diciamo di carattere artistico i temi ci arriva un po' prima questo è accaduto anche nell'ottocento la prima ondata ambientalista avviene nell'ottocento poi viene spazzata via dalla seconda guerra mondiale che porta l'attenzione delle persone su altri aspetti perché ti preoccupi della qualità di ciò che mangi quando mangi quando non mangi non ti preoccupi della qualità naturalmente di ciò che mangi quindi dentro questa diciamo questa sommossa di massa che cerca di scardinare tutto ciò che era considerato e vissuto ormai come un'imposizione come un orpello la musica decisamente fa la sua parte gli anni 70 hanno tantissima musica tantissime canzoni scritte con col tema ambientale quindi questo per per quanto riguarda per quanto riguarda il il passato è sempre stato così pensate a cosa rappresentato per i neri prima lo spiritual poi il gospel poi il jazz poi il rap cioè il modo in cui soprattutto chi come dire una forma di di creazione anche di una cultura comune su alcuni temi su alcuni temi straordinaria Fridays for Su arriviamo al presente ecco poi trovo che la musica in questo tenda anche ad esplorare in certi periodi dei temi nuovi e poi questi temi un po' finiscono per per diventare deboli per un artista come temi su cui lavorare tanto non so come dire ci sono tanti gruppi che oggi fanno un pezzo legato magari alla questione ambientale di Neil Young ne troviamo di meno no per citare uno che viene citato spesso da Livio De Santoli nel suo nel suo gruppo o Johnny Mitchell che è un'altra se non sbaglio insomma si occupa spesso di di questi temi ecco questo è un po' per cui credo che però Fridays for Future dimostri che in questo momento la generazione che è l'unica che può determinare un vero cambio di passo perché sempre quando come dire un fenomeno caratterizza forte poi avrà avuto tante smentite però dei passi avanti in quel periodo lì sono interrompiamo mi fermo qui così interrompiamo anche lo stilicidio delle interruzioni ti ringrazio ti ringrazio Maurizio a questo punto tornerei a Livio Livio una una domanda se secondo te in un prossimo volume magari che non si occupa solo esclusivamente di energia ma più ampio in maniera più ampia di clima per esempio un problemino globale potremmo trovare una playlist che rappresenta per esempio l'emergenza climatica e potremmo oppure stessa domanda a Mussida potremmo chiedere ai musicisti di occuparsi di emergenza climatica vai Livio posso fare una domanda anche io assolutamente sì tanto ancora non aveva il microfono attivato perché il libro di Livio ha una cosa straordinaria un libro di speranza di entusiasmo a questo momento perché lui dice in sostanza che questo è il momento in cui quella rivoluzione pensata allora per l'ambiente è il momento di attuarla questo è straordinario cioè lui proprio da come dire quello che fu fatto allora in tutto il resto oggi può essere fatto finalmente per l'ecologia per le energie rinnovabili per la battaglia del cambiamento climatico contro il cambiamento climatico e quindi è un enorme la sensazione che sia veramente un libro che può dare davvero un segnale anche ai giovani e ai giovanissimi cioè perché forse non in questo momento sono nella fase di rivendicazione proseguono essere nella fase di rivendicazione e forse non ci credono neppure loro come i nostri governanti voglio dire che parlano spesso di ambiente ma più delle volte non credono che le cose possono cambiare davvero insomma in qualche maniera come dire sì vabbè però eccetera ecco la sensazione invece che questo libro sia un grande libro di speranza anche lo scrivi ovviamente nell'incipit della prima pagina in cui ma è esattamente la sensazione che ho io cioè che raramente avviene anche chi lottava come si dice per il cambiamento sociale sì insomma pensava che potesse avvenire ma non c'ha mai insomma specie quelli che erano impegnati nell'idea comunista io da giovane ma insomma come si dice non ci si credeva mica ora come quelle famose barzellette no voglio dire per cui dice se lo divideremo lo divideremo quando arrivarono a dire il mio appartamentino no quello ce l'ho anch'io evitiamo di dividerlo ma era la battuta che dicevamo anche allora in fondo non credendoci davvero in questo cambiamento invece oggi quello che io sto vivendo e quello che mi pare che il tuo libro dica Livio e vorrei capire anche come la coniughi questo elemento è che effettivamente questo è uno di quei momenti della storia in cui il mondo cambia e noi lo stiamo vivendo e tu facendo questo parallelo come si dice dici in fondo ai giovani paradossale che lo diciamo noi diversamente giovani voglio dire che il momento qui è adesso insomma effettivamente possono possono cambiare il corso delle cose ovviamente se escono dalla fase come si dice del pianto e passano alla fase dell'affermazione a te la parola Livio scusa grazie dunque sono rari momenti in cui una generazione ha la possibilità di cambiare il mondo noi stiamo vivendo quel momento Friday for Future dice che ha la consapevolezza di vivere quel momento è anche incazzata se volete di vivere quel momento però ha una grandissima responsabilità io vorrei mettere insieme due tre cose che ho sentito da tutti voi che cosa è successo all'uomo ha detto ha detto Franco prima cosa è successo è stato un momento della nostra storia in cui l'uomo ha avuto consapevolezza si è un po' come posso dire scrollato di dosso la politica la religione non perché non era più un individuo politico o un individuo religioso che non ci fosse il senso della politica o il senso della religione ma perché forse bisognava uscire fuori da un cliché e uno dei primi capitoli del libro forse un po' quello che risponde meglio alla domanda sia di Sergio che di Fabio è il capitolo che è intitolato La meraviglia dell'esserci cioè quel capitolo che fa riferimento a Heidegger non è così complicato non guardatemi con la faccia brutta perché ho citato Heidegger ma è molto semplice invece sarebbe la capacità di meravigliarsi noi abbiamo perso quella capacità a mio modo di vedere da quegli anni in poi piano piano progressivamente e il mondo dice Chesterton non morirà per mancanza di meraviglie le meraviglie sono ancora tante e sono sempre di più il mondo perirà per la mancanza di meraviglia cioè se non ci meraviglieremo più allora il mondo sarà finito insieme all'essere umano sarà finito e allora da questo punto di vista che cosa è successo all'uomo chiedeva Franco e perché non parliamo dell'energia dell'uomo oltre che dell'energia per l'uomo allora io pure mi sono letto il libro di Franco e devo dire che è un libro veramente incredibile incredibile e l'altra faccia se volete io da ingegnere non potevo fare Franco io non potevo fare di più che dire l'energia per l'uomo credimi guarda ho fatto ho tentato ho tentato di uscire fuori dal cliché dell'ingegnere ma già mi sembra tanto avere fatto stare sì non ti abbiamo sentito Franco volevi dire una cosa col microfono però di là col microfono no volevo dire così come diceva Roggiolani voglio dire hai fatto un lavoro straordinario per cui è un libro pieno di entusiasmo quindi è un regalo è un regalo che hai fatto giustamente da ingegnere perché ma da ingegnere che ama che ama non solo l'ingegnere soprattutto ama la vita e cerca di custodirla se riesce anche di proteggerla per certi versi per cui volevo soltanto dire questo no io invece volevo grazie intanto ma volevo dire invece che cosa manca manca proprio il pianeta della musica il pianeta della musica è il contraltare forte di questo entusiasmo e di questa meraviglia perché parla della della musica e delle nostre emozioni che sono energia e quindi è l'energia dell'uomo sono le nostre emozioni e la musica ti racconta che cos'è questa quindi in qualche modo la mia intuizione un po' approssimativa diciamo elementare alla fine ha trovato grazie anche alla compensazione una sua nuova ed è un po' quello che diceva anche Jacopo attenzione scatenare l'entusiasmo come è stato scatenato qualche tempo fa significa nient'altro a mio modo di vedere che provare delle emozioni e provare della meraviglia e la positività di questo libro perché secondo me è profondamente positivo Fabio è veramente positivo cioè vuole veramente far gettare a una nuova generazione che si sta affacciando non il disprezzo ma il cuore oltre l'ostacolo la voglia positiva perché ancora siamo in tempo per fare determinate cose la positività è proprio questo far emergere quello che c'è dentro l'uomo con la musica a parte che è inevitabile ma è forse anche molto semplice perché la musica ci permette di dare sfogo al nostro entusiasmo e alla nostra meraviglia quindi il parallelo è azzeccato me lo dico da solo ma è azzeccato il problema è che quell'epoca non è irripetibile quell'epoca in cui quella musica come abbiamo detto che era ampia proveniva dal pop dal popolare proveniva dal c'era tutto c'era tutto dentro e non a caso io ci ho messo un po' tutto ci ho messo anche Bob Dylan che è tutto che possiamo dire tranne che essere progressive o Neil Young Neil Young pure però sono personaggi che hanno dato veramente forma alla loro meraviglia e alla loro coscienza cercando di dare un giudizio sulla società ma il loro giudizio era per modificarla ovviamente la società non era certo per autocelebrarsi e quindi da questo punto di vista siamo siamo nella stessa nella stessa nello stesso contesto siamo nello stesso contesto cerchiamo di liberarci perché abbiamo l'ausilio delle fonti rinnovabili che ci permette di farlo e l'ausilio delle comunità dell'energia che ci permette di condividerla questa energia e quindi le due cose insieme ci permettono di rivivere quei momenti forse gli ultimi momenti di abbondanza e non di carestia beh se devo rispondere se provo a rispondere io alla domanda allora volevo volevo intanto ancora un'altra volta rimarcare rimarcare come questo tema della musica sia davvero un po' nella pelle di tutti quanti e ognuno a suo modo cercato di raccontarla però mi riallaccio ad una ad un'immagine siccome gli artisti sanno bene che non voglio dire che io sono un artista io sono una persona che ha la fortuna di vivere una dimensione di meraviglia quotidiana nel senso che faccio un mestiere meraviglioso per cui come cacchio si fa è bellissimo però tutti noi viviamo di immagini e il mercato lo sa bene il sistema educativo lo sa bene e se noi sbagliamo cioè le fake news non sono soltanto le parole dette male se c'è una cosa che non mente mai è la musica perché la musica è siccome non ha parola non è lì che può mentire lei non non mente con le parole si può si può dire quello che vogliamo ma con la musica come diceva come ricordava giustamente Jacopo Fou che adesso non vedo più il collegamento parlava di movimento e parlava di energia e parlava di entusiasmo ma ragazzi il movimento ovvero il tempo ovvero il ritmo sono uno degli elementi del codice musicale non il codice musicale il movimento è una delle cose è il timbro è la melodia è l'armonia è l'intervallo cioè noi pensiamo solo muoverci siamo una società che continua a reagire e non agisce reagisce e noi lo abbiamo insegnato ai ragazzi e non siamo stati capaci di insegnarli un'altra cosa cioè va reinventata la storia e dobbiamo riraccontarla perché abbiamo raccontato soltanto una parte che era il nostro piacere non la verità o quantomeno in sincerità ciò che bene o male è davvero successo abbiamo raccontato che cosa ci piaceva ma è un'altra cosa cioè la musica è un'altra cosa cioè il codice il codice musicale è una delle cose più meravigliose complesse complicate nello stesso tempo che ci può restituire che ci può raccontare che ci può dire lei lei ci racconta ci dice chi siamo ce lo racconta ma non perché nel 1978 si usavano quelle robe e nel 1980 se ne usavano un'altra e nel no cioè la forma la forma è uno degli elementi ma è come l'acqua cioè tu la puoi voglio dire la puoi rivestire di coca cola la puoi far diventare coca cola aranciata chinotto cioè ma alla fine è acqua cacchio allora Greta ma bene bene Dio non c'è una musica che può rappresentare Greta c'è una musica che può riprendere se stessa può tornare in qualche modo a capire qual è il suo ruolo qual è il suo scopo questo dovrebbe essere la grande rivoluzione del momento perché l'abbiamo perso il suo scopo il suo ruolo fondamentalmente è questa la storia cioè noi l'hai detto tu prima hai parlato della dei watt e hai accomunato la dimensione umana alla dimensione dell'energia e va bene ma se non stiamo attenti finisce che l'uomo che la macchina è l'uomo visto che l'uomo in qualche modo l'ha creata la macchina finisce per diventare il termine la macchina è l'uomo con il termine la macchina è l'uomo ma la macchina non è l'uomo e non può essere calcolato in watt il suo agire il suo agire è un agire etico è un agire è un agire nel mondo per il bene proprio e per il bene del mondo cioè non è soltanto potenza di azione è qualità di azione e noi dobbiamo in qualche modo riuscire a spiegare a questi ragazzi che devono smettere di farsi usare da noi da noi perché siamo noi i primi in qualche modo ad aver incardinato questo questo meccanismo e abbiamo raccontato una parte della realtà cioè quando si parla di ambiente tu mi chiedi il movimento il movimento io ti posso dire solo quello quello che in qualche modo dobbiamo sperare che anche il Libio che il libro il libro di Libio solleciti è un movimento di coscienza è un movimento di consapevolezza dei ruoli cioè Greta lo sta facendo lo fa a suo modo perché si indigna come può indignarsi una persona che dice ma cazzo ma non vi rendete conto di che meraviglia c'è in giro cioè ma oh ma state scherzando e siamo torniamo a quello che diceva quello che diceva Livio che ruolo ha la musica in tutto questo dobbiamo chiederci questo e dobbiamo avere il coraggio di cominciare a parlare di un codice di cui sappiamo poco ma che ci fa tanto piacere ci fa tanto divertire ma nello stesso tempo che dovremmo cominciare ad utilizzare con un rispetto diverso e con una modalità diversa di utilizzo cioè a partire da come da come si registrano i dischi io il prossimo disco che farò ci farò un'etichetta una etichetta deve essere chiaro da dove arriva come è fatto come è prodotta una cosa cosa gli do perché la cosa più importante è il destino degli ascoltatori non dei musicisti siamo in pochi cavolo cioè voglio dire se non partiamo dagli ascoltatori non andiamo da nessuna parte dobbiamo partire da chi la musica l'ascolta sono loro che dovrebbero dire ragazzi ma basta voglio dire ci date un segnale ecco io e ho finito scusate la passione che ci metto poi alla fine in qualche modo che è sempre quella del musicista però sono a vostra disposizione in qualsiasi momento di tutti voi cioè perché siccome c'è bisogno di stare insieme in questo momento non c'è bisogno soltanto di rivederlo quel momento c'è bisogno di raccontare le cose migliori di quel momento ma non da un punto di vista delle cose che hanno avuto successo ma delle intenzioni continuo a rivalire la musica è pura intenzione emotiva spieghiamolo ai ragazzi spieghiamoglilo bene grazie mille Musid devo dire che è difficile dopo un intervento così appassionato intervenire per cui io a questo punto un po' mi sono sentito tirato anche in causa perché voglio dire è vero che non so suonare un triangolo però io faccio il giornalista e mentre Musid diceva dobbiamo rivolgersi a chi ascolta io tra me e me dicevo è vero io che faccio il giornalista devo rivolgermi a chi mi legge e a questo punto io però passerei la palla a Maurizio Melis come ci rivolgiamo alle persone che ci ascoltano ci leggono o nel tuo caso ti sentono come come facciamo ad entrare in sintonia con quelli che sono i nostri i nostri fruitori delle cose che facciamo io per la parola scritta tu per la parola parlata perdonami l'inviluppo Musid per la parola per le sonorità e così via prego è difficile anche permettervi dopo quanto è già stato detto allora due piccole due piccole reazioni intanto mi ha molto colpito questo reagisce non agisce mi ha fatto pensare un'altra cosa che ha detto un architetto per esempio in relazione alla pandemia e noi tutti dicevamo dobbiamo ripartire lui diceva dobbiamo ricominciare mi sembra un concetto molto molto simile e forse vale un po' come slogan di tutto questo dibattito nel senso che appunto dobbiamo ricominciare ad avere quello slancio che c'è stato in certi periodi della storia non solo durante gli anni settanta periodicamente ogni tanto per una congiuntura astrale diciamo così perché poi sarebbe lunga e difficile analizzare esattamente il come il perché certe cose avvengono in un certo momento però in certi momenti c'è un potenziale di cambiamento in certi momenti storici che in altri momenti non c'è la questione ambientale che emerge negli anni sessanta quasi tutti gli storici dell'ambiente sono d'accordo nel dire sono in disaccordo fondamentalmente su tutto ma sono d'accordo nel dire che il compleanno diciamo la data di nascita dell'ambientalismo moderno è il 1962 quando Rachel Carson pubblica Primavera Silenziosa che mette l'accento proprio sui veleni dell'agricoltura attenzione però che negli anni cinquanta se uno va a vedere le pubblicazioni scientifiche sono uscite negli anni cinquanta che hanno posto le basi per la denuncia e il grande abuso della chimica è posteriore alla seconda guerra mondiale perché si sono trovati pieni di aerei di cui non sapevano cosa farsi e pieni di fabbriche chimiche che non sapevano come utilizzare hanno detto bene facciamo antiparassitari e li spargiamo con gli aerei e questo quindi a volte come dire ci sono tante ragioni per cui le cose si verificano in un certo momento per quanto riguarda la domanda che mi facevi io ti posso rispondere per quello che faccio io io faccio il divulgatore di scienze di tecnologia questa è la prima e lì io dico trovo che uno degli ingredienti fondamentali quando si affrontano questi argomenti che rischiano sempre di essere percepiti come aridi e come elitari una delle cose che io cerco di fare è di tirare giù per esempio dallo scranno il professore gli do del tu in trasmissione cerchiamo di avere un linguaggio colloquiale cerchiamo di sacrificare l'aulicità del linguaggio ai contenuti per poter come dire magari concentrarci su un certo spessore su un certo spessore dei contenuti quindi una cosa da fare senz'altro evitare di fare i predicozzi dal pulpito cercare di farli tra la gente diciamo così e non troppo dal balcone questa è una delle cose poi l'altra domanda per tornare al tema anche della musica è in che modo tutte le forme di comunicazione possono aiutarci a trasmettere un messaggio io sono totalmente d'accordo la musica è un linguaggio di comunicazione forse il più anzi senza forse il più universale che esiste io mi ricordo che quando mi sono appassionato ho cominciato a appassionarmi per la musica suonata suonavo i pezzi del per jam del sound garden non sapendo assolutamente cosa dicessero perché all'epoca ho studiato francese ho recuperato dopo e però mi emozionavano lo stesso perché comunque la componente musicale era talmente potente ma vale come dire quando ascoltiamo tanta altra musica che oserei dire che la musica in quei casi precisa le parole perché le parole sono è vero che si può dire tutto ma certe cose incredibilmente difficili da dire con le parole invece vengono espresse in modo immediato istantaneo istantaneo con la musica sono due ottimi sono due ottimi alleati musica che dovrebbe fare più parte della formazione ci sono persino ricerche scientifiche che dimostrano chiaramente che ci sono che si sviluppano circuiti nel cervello che non si sviluppano se non si pratica se non si pratica la musica ed è uno strumento di comunicazione non lo so io faccio fatica a pensare che queste cose si possano pianificare a tavolino diciamo che adesso il mondo della musica ci aiuta credo però che per chi maneggia quel linguaggio chi maneggia quel linguaggio può contribuire anche attraverso quel linguaggio a raccontare e a rendere lasciatemi così visto che si parlava di mercato anche più vendibili vendibili certi discorsi certi certi ragionamenti non avrei paura in questo senso di usarla ecco la musica la canzone la pittura la poesia qualunque forma può essere può essere utile ad avvicinare io penso in particolare il campo della scienza quello che penso che è un settore che viene anche raccontato in modo molto arido e questo in generale anche a scuola penso al fatto che oggi voi trovate in libreria tantissimi libri che vi raccontano la storia di personaggi o le vicende che stanno dietro le grandi scoperte sono molto piacevoli da leggere ti danno la dimensione vera della scienza che è quella della ricerca non quella dalla scoperta la ricerca dura il 99,9% del tempo poi arriva la scoperta noi celebriamo quella ma tutto ecco tutta quella roba lì invece può essere resa piacevole interessante per esempio se ci commettiamo la componente umana della storia di queste persone delle vicende dell'epoca la musica è uno dei mezzi più potenti che abbiamo a disposizione per anche confezionare qualunque qualunque messaggio al di là del valore suo intrinseco che nessuno dei presenti qui mette in discussione mi sembra evidente assolutamente sì grazie Maurizio io vedo una mano alzata da parte di Fabio Timmi Fabio microfono sì voglio fare una domanda a tutti se fosse possibile istruire proprio in virtù di questa affermazione straordinaria che fa il libro di Livio cioè che come dire è un momento in cui possiamo vivere davvero un grande cambiamento ma abbiamo un problema fondamentale abbiamo bisogno perché avvenga nei tempi utili e come dice Greta Thunberg che si faccia presto ci si muova e per fare questo abbiamo bisogno anche di un movimento culturale posso darti una notizia Fabio certo in svedese si dice Thunberg va bene allora Greta Thunberg allora va bene va bene quella lì d'accordo ok 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 senti no ho capito poco la battuta perché eri tra i blocchi ogni tanto hai qualche blocco rimani fermo nella trasmissione quindi era solo sul nome di Greta eh non su no quello che voglio dire è che lo dico come elemento provocatorio perché è un momento di grande battaglia culturale in questo momento cioè noi siamo colpiti dalla cultura italiana cioè la cultura italiana va bene quella dei paesaggisti quella dei diciamo storici sta massacrando le energie rinnovabili e la lotta ai cambiamenti climatici lo fa nella maniera più imbecille che si possa fare lo dico senza tema di offendere personaggi come Vittorio Sgarbi come così giusto per citarne qualcuno Oliviero Toscani e decine di altri ma lo fa in una maniera così suddola va bene trasformando anche moltissimi di questi ragazzi che fanno la lotta i cambiamenti climatici in avversari del cambiamento allora noi avremmo bisogno proprio che nascesse lo dico a Mussida lo dico a a Maurizio Melisi e a Livio di Santoli proprio perché ha fatto un libro che nascesse finalmente un movimento musicale che spinga non solo sull'esigenza del cambiamento e su quanto è bello cambiare vivere in equilibrio tra cielo e terra tra fotovoltaico e geotermia voglio dire recuperando come si dice una condizione di equilibrio con il pianeta terra con una nuova agricoltura che non la violenti e con piccole cose essenziali ma che ci danno finalmente una misura di stare in pace con questo pianeta è uno degli elementi di comunicazione forte ma l'altro elemento di comunicazione forte che bisogna assolutamente come dire fornire è il fatto che in questo momento cambiare è la risposta culturale che le energie rinnovabili non sono il brutto che tenta di entrare in un mondo bello ma che sono il bello che tenta di entrare in un mondo avvelenato cioè cambiare proprio l'elemento il paradigma di comunicazione quando per fare in modo che questi armati di uova appena esce il sindaco che dice no sopra i palazzi del centro storico ma i pannelli perché sono brutti li prendano a uova nel viso voglio dire si scateni finalmente una rabbia o contraire scusate l'appello infervorato ma lo dico a partire da Livio e agli altri interlocutori perché a mio avviso ai tempi quando si scatenò il cambiamento dovrebbe essere senza se senza ma in questo momento il cambiamento bisogna farlo sì ma forse è bello il pannello fotovoltaico ma poi come lo smaltisci la paleolica ovviamente va messa in un posto dove non la vede nessuno nel mare si sentono gli infrasuoni che danneggiano i delfini e via e via di cazzata in cazzata siamo arrivati al punto che il peggior nemico delle rinnovabili sono le soprintendenze alle belle arti il ministro della cultura italiano Franceschini è il peggior avversario del cambiamento rinnovabile del nostro paese allora su questo forse potremmo pensare a una fase in cui i concerti sono anche quest'altra cosa perché la cosa che hai detto Franco è bellissima lo scrivo nel disco di cosa hai fatto ebbene sarebbe bello che ogni concerto quando riparte c'è questo elemento qui ho finito bene ma Franco voleva intervenire un attimo Ossida voleva intervenire no volevo dire che era la stessa cosa nel senso che quello che tu quello che tu hai detto è una cosa che secondo me deve essere fatta ma la stiamo facendo la stiamo pensando almeno io la sto facendo la sto pensando e sono adesso se ho incontrato degli altri amici sono contento e magari vi lascio poi tutte le mie tutti i miei ricapiti tutte le mie cose così almeno li mandiamo in contatto dopo magari Livio mette ci mette in contatto ci fa scambiare le mail le mail perché hai ragione cioè il libro di Livio non è soltanto appassionato è una prova che l'energia dell'uomo e l'energia per l'uomo devono andare insieme quindi questi due elementi si devono sposare la parola consapevolezza non è semplicemente una cosa astratta astrusa la parola consapevolezza è una parola che è usata in ambito musicale è determinante perché ogni cosa è un prodotto e noi cerchiamo in qualche modo di lavorare sempre su dei prodotti ma in realtà la musica in sé è prodotto in quanto forma o in quanto elemento formale ma non lo è in quanto elemento sostanziale allora dobbiamo prima di arrivare ai prodotti e quindi prima di arrivare alla musica che poi in qualche modo riveste una pubblicità che poi riveste una cosa tutte cose che va bene continuerà a farlo non è quello il problema il problema è riuscire in qualche modo a riposizionare il suo ruolo se tu non hai un'immagine di che cos'è questa benedetta energia è bellissima e quindi qui ritorniamo un'altra volta a quello che dice giustamente Livio dobbiamo immaginare di avere in mano dell'energia e questa energia è un'energia fondamentale per la consapevolezza dell'individuo non per la bellezza dell'ascoltare un disco cioè io oggi pomeriggio dalle due e mezza alle quattro era come vi dicevo con questi ragazzi con i quali stiamo vivendo queste esperienze insieme per far capire loro che il cuore vero della nostra esistenza sono le nostre emozioni e che loro sono utilizzati dal sistema perché il sistema ovviamente soprattutto dal punto di vista degli adolescenti ti dà l'opportunità di scambiare degli elementi con i quali condividere un piacere e il piacere della musica è straordinariamente importante ma il problema non è tanto il piacere e io gli ho detto ma ragazzi vi faccio una domanda ma secondo voi perché è stata inventata la musica a che cosa cavolo serve la musica cioè quando l'abbiamo quando è stata inventata questa meraviglia del cielo qual era il suo scopo e qual è lo scopo oggi cioè incominciamo a farci questa domanda cioè se già ci facciamo questa domanda noi entriamo in una in una dimensione che ha a che fare con uno sforzo che dobbiamo fare nei confronti degli ascoltatori perché lo dobbiamo agli ascoltatori e non lo dobbiamo ai municisti ancora una volta il discorso arriva e allora dicevo ma perché l'abbiamo inventata dicevo noi siamo fatti di suono allora come faccio a non andare in supercazzoli con delle persone che hanno 16 anni 17 anni e che poi oltretutto sono lì e che hanno hanno commesso crimini e quindi spesso e volentieri non hanno anche la percezione di che cosa sono le cose beh io vi dico abbiamo passato un'ora e mezzo dove avevano gli occhi così tutti e due perché abbiamo parlato di animali e abbiamo parlato di animali in quanto elementi dotati di un'organizzazione d'aria che fa sì che ciascun animale abbia il suo suono e allora dicevo guardate che meno male tutti tutti voi ognuno l'uomo nel suo insieme è il riassunto di tutto quello che è il destino degli animali del pianeta e qui ritorniamo a Greta Thunberg cioè essere consapevoli che tutta la nostra struttura emotiva e quindi la tristezza la paura il coniglio è un animale che conosciamo tutti si può dire tutto meno che sia temerario per certi versi ok il leone lo conosciamo tutti cioè il sistema emotivo del pianeta è diviso in centinaia e centinaia e centinaia di razze che non devono essere soltanto protette in quanto fisiche ma perché si portano dietro un elemento animico e in quanto si portano dentro un elemento animico è che solo dentro di noi se noi le aboliamo finisce per finiamo per andare a distruggere qualche cosa che siamo noi soltanto che questa che questo elemento che è un elemento di pensiero ed è un elemento di immagine noi viviamo di immagine e poter essere raccontato dobbiamo provare a raccontarlo dobbiamo provare a raccontare che il pianeta siamo noi e lo dobbiamo fare attraverso i metodi dell'arte secondo me l'arte ha questo scopo non tanto che il pianeta siamo noi ma va in profondità là dove la scienza non riesce a andare perché ha un altro compito non perché non ci deve essere ma perché è un altro compito dobbiamo lavorare insieme allora se io a un certo punto comprendo il valore poi posso parlare di una qualità ma se non ho senso del valore come cavolo faccio a parlare poi del senso della qualità allora bisogna fare uno sforzo che è uno sforzo importante che non posso fare io ho 74 anni tra un po' vi saluto vado in un'altra dimensione vado a trovare il papà di Jacopo ci facciamo delle mangiate straordinarie ci raccontiamo l'ira di Dio di cose siamo incrociati anche a San Marino lui aveva lui aveva una mostra di cose bellissime lì e io facevo una mostra dove facevo vedere gli elementi gli elementi musicali per cui noi dobbiamo stare insieme e dobbiamo stare insieme soprattutto nel rispetto che dobbiamo non ai musicisti ma agli ascoltatori e dobbiamo provare in qualche modo ciascuno a raccontare come l'elemento naturale non è disgiunto dal mondo musicale perché se è vero che la musica è pure intenzione emotiva è altrettanto vero che per esempio il mondo le male è pure intenzione emotiva e noi lo rappresentiamo e quindi in qualche modo fa parte di noi diventa più facile ma bisogna partire dalla gente bisogna partire dagli ascoltatori io posso partire dagli ascoltatori perché ovviamente sono musicista e quindi di conseguenza mi viene facile però non sarà per nulla facile vorrà dire che quando produrremo quando produrrò delle cose poi ve le faccio avere e voi mi dite che cosa ne pensate magari mi date una mano date una mano anche a me lavorando in questo territorio questo per rispondere a quello che diceva Fabio in sostanza per cui io personalmente ci sono così lo sa Livio stiamo già progettando stiamo già facendo delle cose quindi io ci sono bene a questo punto Livio direi che di carne al fuoco ne è stata messa parecchia è stata una discussione molto interessante che ha abbracciato veramente panorami sferici a 360 gradi ma magari anche di più volevo passare la parola a te per trarre le conclusioni di questa ora e mezza che abbiamo passato ormai abbondante che abbiamo passato assieme attiva il microfono grazie allora intanto intanto c'è una convinzione che è stata consolidata non che non ci fosse prima ma che ogni volta affrontiamo questi temi c'è un pericolo che io vedo molto 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 forte sempre e che è il retaggio del novecento io lo chiamo il retaggio del novecento il novecento il secolo breve è stato per certi versi importantissimo pensiamo alla ricostruzione morale oltre che materiale del dopoguerra pensiamo anche al progresso che abbiamo vissuto per certi versi ma ci sono state due cose che ci hanno ucciso e ci hanno tramortito ecco per lo meno dalle quali facciamo difficoltà a uscirne le due cose sono la verticalità dei saperi cioè lo specialismo non che non bisogna essere specialisti attenzione e che non bisogna abbandonare lo specialismo a se stesso senza inserirlo in un contesto in un contesto molti lo chiamano nuovo umanesimo la riconquista di un nuovo umanesimo qualcuno ci ha provato negli anni 70 e 80 e pur vincendo un premio Nobel sto parlando di Elia Prigogin non è stato assolutamente ascoltato aveva detto però ma perché non cerchiamo di mettere insieme le competenze di mettere insieme le persone di mettere insieme un un un'emozione la musica questa cosa lo fa però come diceva Franco bisogna andare oltre no? bisogna cercare il vero ruolo bisogna trovare il vero ruolo non abbandonarci al livello zero quello basico che già è tanto eh per carità però entrare ecco il il e poi la seconda motivazione è la fonte fossile che ci ha ma che ci ha che ci ha ridotto in questo stato detto questo però cosa bisogna fare e ci può aiutare la fonte rinnovabile e ci può aiutare la comunità dell'energia ci può aiutare la condivisione la distribuzione il bene il bene comune ci può aiutare la rivoluzione occorre occorre assolutamente avere un altro atteggiamento non quello del novecento ma quello del terzo millennio lasciatemi dire anche se sono passati già venti anni dall'inizio e non è successo ancora niente da questo punto di vista qual è l'atteggiamento nuovo che abbiamo in qualche modo detto un po' tutti eh stasera e sono contento che ogni volta eh in cui si discute di questi termini sento che c'è questa convinzione questo convincimento il convincimento di affrontare il tema in maniera complessiva in maniera unitario e io mi metto come primo imputato di questo nuovo discorso perché io lavoro all'università e io ho centinaia di persone all'anno che ascoltano e che vogliono sapere qualche cosa e non possiamo continuare a dire loro sempre le stesse cose dobbiamo modificare il nostro stesso atteggiamento educativo e da questo punto di vista c'è un esempio da fare che è quello di insegnamenti cosiddetti laterali e non più verticali insegnamenti che possono provocare direttamente la reazione un'azione più che una reazione per dirla con Franco da parte di colori quali l'insegnamento è rivolto non dico che lo devono fare loro la lezione ma quasi e da questo punto di vista l'esempio è quello di affrontare la sostenibilità energetica ambientale ci metto sempre l'energia per non essere poi accusato sull'energia almeno sto tranquillo sono molto più tranquillo e molto più comodo ma la sostenibilità energetica ambientale è la sostenibilità della musica è la sostenibilità della luce è la sostenibilità della pittura delle arti in genere è la sostenibilità della meraviglia la sostenibilità dell'emozione ecco questo è quello che dobbiamo recuperare io farò di tutto credetemi e lo farò insieme a tutti voi perché questa cosa o si fa insieme o non si fa posso dire una parola certo non lo vuoi dire no mi è piaciuto tantissimo questa questa tua chiusa sulla meraviglia io credo che dietro la musica ci sia la meraviglia dietro l'arte ci sia la meraviglia ma anche nella vita nell'amore nella lotta politica nel nostro sogno di un ambiente salvato e credo che ci sia alla fine un centro di coscienza di consapevolezza che è poi la molla che porta le persone a impegnarsi per un mondo migliore e mi è piaciuto tantissimo quello che ha detto Franco Murside cioè c'è come un nucleo di sentimento che dentro ha la meraviglia lo stupore che ha il fatto di essere dentro è una cosa un po' zen lo zen che ti fa essere attaccato alla realtà non lo zen dei mistici che ti porta a distaccarti dai desideri dalle passioni no noi abbiamo un nucleo della nostra vita che è il nostro centro e il problema tanta gente non si occupa dell'ambiente non si occupa dell'arte non si dà all'amore non si dà alla vita proprio perché gli manca questo contatto e la musica l'arte hanno questo forte dentro io credo che noi dovremmo mettere questo discorso esistenziale questa ricerca di una capacità di ascoltare la vibrazione creatrice che è dentro di noi al centro del nostro discorso culturale perché è qui che parte la rivolta la voglia di cambiare la tua vita di crescere di opporti a quello che non va bene e avere cura invece delle cose buone la terra le piante gli animali gli esseri umani l'amore i bambini grazie grazie veramente è stato veramente arricchente grazie a te bene a questo punto che dite direi di chiudere con con questa trasmissione il dibattito diciamo è stato veramente molto molto interessante spero che Fabio che è il Deus Ex Machina diciamo delle nostre iniziative di Eco Futuro nei prossimi tempi organizza altre cose di questo tipo io so che lui è una persona vulcanica che organizza non molla assolutamente la minima occasione per promuovere dibattiti intorno a queste tematiche che stiamo approfondendo io invito comunque i nostri ospiti poi a rimanere in contatto e chissà che non riusciamo a organizzare altre cose di questo tipo magari durante la prossima playlist barra libro che Livia De Santoli vorrà proporci d'accordo anzi un consiglio è apparso Angelo Consoli dietro a Livia è apparso Angelo Consoli eccolo qua al mito Franco Mussina ciao Franco ci vediamo presto un'incursione si potrebbe anche ragionare pensavo Livia di fare un ebook interattivo che a quel punto ha al suo interno i meccanismi per suonare mentre mentre lo leggi una cosa una cosa di questo tipo piccola nota di colore purtroppo abbiamo parlato di musica non abbiamo potuto far sentire la musica perché il sistema di copyright dei social network si avrebbero tagliato praticamente la diretta e le mani al decimo secondo di di musica e da questo punto di vista invidio molto Maurizio Melis che invece può usare tutta la musica che gli viene in mente durante le sue trasmissioni e con noi non sono così generosi non pensare non sono così generosi tanto per parlare di bene comune no? lasciamo perdere va? Allora io faccio una proposta cioè che innanzitutto Maurizio Melis a Ecofuturo venga col suo spettacolo beh anche Franco se mi volete ci starò sicuramente figurando sarà quello ovviamente sarebbe molto bello che l'iniziativa che sta facendo Franco Mussida che ovviamente Jacopo sarà dei nostri perché lui il festival lo inventa e lo coltiva tutti i giorni e insomma davvero questa vedere se riusciamo come dire a tradurre anche nella comunicazione in un momento musicale importante questa grande idea del libro di Livio De Santoli e tenete conto che Livio lo ha scritto questo libro nel momento in cui ha assunto un ruolo molto importante di guida di tutto il coordinamento delle energie rinnovabili e ha un bel segnale la sensazione che effettivamente nel momento in cui lui diciamo ha preso questa responsabilità non la sta vivendo come dire per ingrigirsi in un ruolo burocratico di potere ma evidentemente per utilizzarla per aiutarci tutti quanti a sognare concretamente come dice Ecofuturo è il luogo delle speranze concrete quindi ho un bel campanello come si sente in casa che si fa sentire io vi voglio ringraziare a tutti quanti davvero c'erano delle belle vibrazioni stasera grazie tante grazie a voi grazie a voi grazie a tutti buona serata grazie 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 veramente grazie a tutti Grazie a tutti